Buon baccona, buon baccona, anche se siete con sapere dati di Nati, le corse delle Algares organizzate di Omnibus e che abbiamo organizzato anche queste corse e che come Omnibus e lì hanno messo soddisfetti per la partecipazione, ma per questo sono inscriviti le 40 persone. Dei a gara di apprenda, di apprenda, di dicire, di scrivere, insomma, di sapere, di messe, di conoscere la nostra lingua, l'Algares. La scena naturalmente è un fatto che è estremamente positivo, dire che i carattieri, i carattere, non solo gli Algares, stai in a gara di apprendere, di conoscere, di approfondire l'Algares. També la nostra storia, la nostra lingua è un fatto positivo ed è un fatto che non è l'unico il corso di Algares che sa fare, che sono un'altra delle scuole, che non sapevano la scuola di Algares, dell'associazione per la salvaguardia, per il patrimonio di storia di struttura della Genova. Quindi sono tre organizzazioni che fanno un corso di Algares. e naturalmente un salto si continuerebbe a organizzare, a organizzare il corso, per eseguire questi momenti positivi con il mio. Naturalmente è un grazie per il corso di Algares, perché vogliono veramente volontà a fare il spazio della giornata, a fare una volta la famiglia, alla famiglia, al traballo, alla spazio della spazionanza. Quindi a ciò vuol dire che proprio è un'altra gran gara di Algares e come si è sembrato. Quindi tutt'una grazie a tutti e a tutti che avevano accampato le corse, che avevano partecipato. però siamo primitivi. Grazie a tutti. Non devo venire con la maestra Carl Valentino. Perché, insomma, è natura che è già con la professionalità, però per preparare la visione, che è normale, che è molto importante. Come abbiamo visto, anche quando abbiamo avviato la visione, via posta elettronica, abbiamo avviato tutte le documentazioni che hanno usato. Poi venivano a continuare a casa, a seguire, a approfondire, insomma, e avevano tutto il materiale a disposizione. Dito questo, sì, i nostri amici, si la tengono a casa, si viene la volontà di vostra e di altre persone, ma che hanno usato, che hanno usato, agli anni, no? Buonasera a tutti. Grazie al Presidente, che è Carola, fa la sua presentazione, esattando le cose che per me sono cose normali, quindi, parte dell'Associazione Tantanza, non è una cosa che per me è la normalità, non è l'eccezionalità. Anguane è tutta al sé Anna, che è una ricorsa italiana, e sono persone che hanno frequentato già di due anni, perché non si riesca a essere stress, e Anguane, che ci mi ha frequentato, magari si è interessato al futuro, Abbiamo fatto due idee. Il primo è l'ideica. È un curs che è nato come voleva fare l'odere della mia mamma. È un curs per insegnare la gente a leggere. Tanta gente scrive in altra cosa, in diversi ambiti, si scrive poesia, si scrive contas. Però se la gente, non una fatica vita, ma se la gente di casa, la gente normale, la gente che fa via normale, che non fa via delle associazioni, non sapete di giù. Questa è la mia vita di giù. Quindi siamo puntati a scrivere, siamo puntati fulmati, impreparati, per tutti. Aciò credo che sia una cosa fondamentale. La maggior parte delle ore, 36 ore, sono state dedicate soprattutto a formare le cose, a insegnare a leggere. Che cosa aveva i giù? De tutto. Aveva i giù del conto popolare, proprio quel popolare che non dava nemmanto forma di letteratura, ma era semplicemente la trascrizione del conto orale. avesso digit contas messa strutturato, dal punto di vista della letteratura. Avevamo scritto digit ripresi informativi, perchè vi vosa spiegavano la cosa, cioè che avviano una funzione, di insegnare il GIP, ma anche la funzione di emozione didattica. Abbiamo anche fatto un formativo di carattere quasi scientifico, come l'alimentazione mediterranea. Abbiamo leggiti traduzioni e alla fine del corso ho leggiti poesie. Per quello che riguarda me, quello che volevo leggere, è vero che l'Algarese s'ha potuto andare a tutti gli amici della comunicazione, della letteratura, della sicilissima e della letteratura. Per la comunicazione normale di carattere, credo che non pude considerare soddisfatto di aver portato molto la scuola che volevo leggere. E grazie a chi ha partecipato, sono escriviti effettivamente al mes di quaranta, il titolo era Poesie di Raffaele Ardaldi. Raffaele Ardaldi, che è nata a Bidio 1862, che è morta a Bidio 1864. Come inizia Eugenio, e un giudice Cavallo e Carlo, per la prima salgarezza del 1771. Grazie, buona tarda presto. Cavallo e Carlo. L'animale ha tirato i mesi che ha pogut anima e il corpo, ma amici della montagna, ha spuntunato del sol, e ha pregut che stanno con scopas ossos a via via. Ha pretto un gran sospiro con Dio, con Dio, ha giurato ma appuntato a questa credo. L'uomo, la faccia branca del paredo, che paga il corpo e le maniche di fueto, al capo, al ronco, al ventre, col tepe, e si acciugla la sola maconetta. Il cavallo è una scelta e batte il corpo, e tramora tutti i paesi della paredo. Puntà al pèo, che di sangue già va bene, e riprenda su un po' da frastonare, padronato, con Dio, fa entraere. Dà una forza, che a fine ragionare, la frastonia, lo coppio, non è il trumento, per il suo minuto. Sagi un baccarino. Grazie. 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 Grazie a te. Eugenio. Eugenio Aguani è il primo in atto che ha presentato il nostro corso, però è una persona che sembra, probabilmente, con la tabella, per ciò, credo che ha già parlato, sì, a DG, però è già un po' pensativa. E il fatto che la gente del corso non tende un livello omogeneo, per ciò aggiunga anche la tabella del corso, per cosa no? Antena, solamente la mia che pronuncia, non parla solo la mia diciamo, ma un po' che non si ha detto. Io so, credo che te salvesci, a parte Antonio Aguani è un corso, ma sa, passante, perché ho un'ora e miglia volato andare, perché mi, cioè, andrete a mica l'altro un'ora e miglia si credeva passante, però a maniera che esiste una pluralità delle os. Allora, continuiamo a Anna Maria, Zinchi. Anna Maria, invece, già lo sa conoscente, che è pianguana, si dite, si dite un livello del giuro, si dite l'altro livello, che è appuntamente un livello proprio drammatica, ovunque riprenda la prima nozione per la parastica. Allora, dici, sembra aver affetta parte, e dici, caro Aluneto. Caro Aluneto, della mia 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 mia, caro Aluneto, quanta mai anzi è buttata al corpo, a scipo di lasciato, era stupetto, ma la tabella travestiva le ore. De oro che vei le nostre canzoni e numeri, dei bronchi, di minunenze e deliettas. La società e monti ma feona, sono di mani e le ansi e stracchi tutti. All'un dei due, cada lunedì astretto, un dolce della via abbia parlato. Tutti come prima, alla raggetta del sol, la vista di l'oro e della caras. Los miei saco un signo, Lucetta pacienta le sue donne aggerate, la gatta e s'avantece la piretta, imprugge la sottregita la paretta. Tutti come prima, solo una piretta, senza risar il pomo e il saluto. Lo amica a me e il saluto del sol, la durita qualità non ha pogutato. A mezzo spogliere sono anche le proposte, sono un po' caturse, a tutta la classe. Però è successo anche un'altra cosa. che io ho proposto, che pensavo di che proponga, che era una delle persone che ha preguitato, mi sono andato a tutti i tre anni. E' stato fatto che ho fatto un passo davanti, che è stato fatto che le proponga una poesia che forrà gradata, come ha fatto Antonello, che è Antonello Stagnaro, che era un'altra poesia di Catardi, che è Sonsonni, la proposta è la mia esagradata. La mia esagradata è la mia esagradata è la mia esagradata. Nataseto a due, non è andata da un'altra. Dovano scarci, Gesù, la patrega, una mica di miglia alla collega. Ma è soffro, non è di me, non posi spingi, che scadini del corso, il corso a cani. Io da me, che di quel tempo per me, sono andati a fatto a fatto, in nove o tre anni. E se la stradiasca, mi arrivo il coro, che forse non poteva di Giappone. Siamo viena a presa, e questo è un'altra pensare, i cari, e Antonietto da Cina Tempo, e che vuoi dire, che vai di Nara. Antonietto? Siamo viena a presa, la prima attuata al corso, e una cosa curiosa, è che del solito, arriva a giustizio, puntazzo, e genitori. Ma che c'è una volta, si arriva alla Mara, puntala della figlia. Che c'è una grada? Antonietto, ci ha detto un'ultima, in di Nara, per a pensare, pubblicare a Ombre e Sol, del 1980. Non c'è un'ultima, che è una toglia di lunera, di solita con sola. Che c'è in casa, al fondo, una mamma boia, su una torra greva, forta e sola. Dei muggoli, su un po' come di toglia, si attira, nel calentato una boia. Il tuo agli via, se strana, dolza, moglie, che in un'ultima di andare, esce a foras. Ora, non c'è una odia, ma in arrivo, nel come in toglia, di tutta un'amore, di Nina, di Valverde, di Prata, io. Mentre tu sono, tanto il progetto, e per tu sospira, che raccordi, c'è stata mia, alascia del Diano. Grazie.